Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua con un video un pochettino più serio del solito perché voglio parlarvi di me. Voglio parlarvi della mia storia, dei miei cambiamenti sia mentali che fisici che hanno caratterizzato tutti questi anni. Molti di voi già mi conoscono comunque tramite Instagram, tramite video, però ho sempre fatto vedere la parte comunque divertente, spensierata, che alla fine mi appartiene perché ragazzi come sapete io sono così proprio caratterialmente però diciamo che ci sono stati dei periodi un pochettino più difficili e sono qua per spiegarveli, per raccontarvi come l'ho affrontati e come sono cambiata. Io ho iniziato ad andare in palestra quando ero in quarta superiore, quindi avevo 17 anni. Io non sapevo niente della Sala Pesi, praticamente sono stata accompagnata da un mio amico che mi ha spiegato un po' di cose e ringrazio tantissimo. E da lì ho incominciato, ho iniziato a vedere cosa c'era su YouTube, ho iniziato un pochettino a copiare le altre persone che erano in palestra però con un mood proprio super tranquillo. Diciamo che quello che mi ha spinto di più a intraprendere questa strada è stato il fatto che io fisicamente non è che mi piacevo troppo. Non è che è sempre stato un problema, non è che mi guardavo allo specchio e vedevo qualcosa che non mi piacesse. Però sinceramente avevo un pochettino di spirito, di rivalsa nel senso che io sono bassina, ragazzi, sono 1,55. Sono sempre stata tra le più basse della classe, tra le più magre, tra le più piccoline e diciamo che questa cosa qua iniziava a non darmi fastidio però non la vivevo troppo bene, soprattutto negli anni comunque delle medie e delle superiori. Quindi praticamente ho visto che tramite l'allenamento, tramite la palestra c'erano comunque queste persone che avevano dei corpi super muscolosi, erano super grosse, forti e volevo diventare così anch'io. Quindi diciamo che questo è stato quello che mi ha spinto. Questa, diciamo, sono io di costituzione, qua ero più piccola, qua sarà stata forse la prima media, una roba del genere. Non sono mai stata una che ha avuto molta fame. Ci sono quei bambini che hanno tanto appetito, ecco, io non ero una di quelle. E diciamo che anche l'allenamento mi ha aiutato tantissimo. Comunque, ragazzi, entrare in palestra non sapere niente, allenarsi un po' a caso alla fine, però comunque i risultati li avevo visti, ero felicissima, anche la fame comunque era aumentata e questo mi ha aiutato comunque a prendere peso. Io credo, ragazzi, di essere stata intorno ai 44 kg, 43 per non so quanto tempo. Ed ero arrivata fino ai 46-47 nel giro di 4-5 mesi. Adesso però vi spiego un pochettino. Io sono proprio una persona testarda, se si mette in testa una cosa, la deve fare. Io praticamente, questa cosa qua la sanno in pochi, però per farvi vedere quando sono motivata, c'è ragazzi, non mi ferma nessuno. Praticamente avevo finito le superiori e subito ho iniziato a lavorare in gelateria. Tutto questo perché mi ero appassionata al mondo del fitness, vedevo tutti questi personal trainer che facevano fare dei cambiamenti davvero spaventosi alle persone e ho detto, no, ok, mi voglio far seguire seriamente. Voglio iniziare con la dieta, l'allenamento, una cosa studiata su di me. Allora, niente, ho iniziato a lavorare, ho messo da parte un po' di soldi per poi a settembre incominciare. Non era un coaching online, ma era un personal trainer che lavorava in palestra, con cui, diciamo, il primo mese mi sono trovata molto bene. L'allenamento era quattro volte a settimana, mi ha aiutato a costruire un pochettino, anche se quello è stato a due mesi, però comunque sono migliorata. L'unico problema era la dieta. Io ero super motivata a seguire una dieta, ma sinceramente, ragazzi, io non ne avevo bisogno. Alla fine doveva essere una dieta per fare un pochettino di massa, per mettere su qualche muscoletto, aumentare un pochettino di peso. In realtà è stata una dieta che mi ha fatto soltanto dimagrire e creato anche un bel po' di problemi per quanto riguarda ciclo e cose varie. Però praticamente mi sono trovata dimagrita. Adesso vi metto qua una foto. Cioè, ragazzi, ho una faccia che sembra che mi hanno picchiata o che non dormivo da settimane. Invece no, era soltanto un allenamento molto stressante per il mio fisico e una dieta molto controllata. Era proprio una dieta da frigo. Io avevo martedì, tot riso, tot salsa di pomodoro, tot olio. Io dovevo pesare tutto. Questo mi ha creato degli schemi mentali o comunque che io, ad esempio, il martedì dovevo mangiare i broccoli e se non c'erano i broccoli a casa, mi arrabbiavo. Ecco, già il secondo ho visto che questa cosa qua non faceva per me. Ok? Quindi praticamente ho chiuso la collaborazione, sono andata avanti un pochettino da sola e poi ho trovato un altro trainer. Ragazzi, cioè, lì davvero ho buttato via soltanto soldi perché ero una persona non incompetente di più. Mi aveva dato praticamente una scheda che non aveva senso e l'avevo capito io che comunque di palestra ne sapevo poco. E oltretutto, come dieta, mi aveva dato i macros ma io questi macros, ragazzi, non li avevo neanche mai visti perché comunque tanti anni fa c'erano proprio le diete da bro, le diete da frigo. Non c'era questa apertura mentale. Cioè, se facevi palestra, allora dovevi mangiare così, dovevi mangiare riso, pollo, merluzzo, broccoli e basta. Poi vabbè, è durata poco anche perché mi aveva dato delle quantità di cibo che per me comunque erano giuste perché a distanza di mesi mi sono trovata a mangiare anche di più. Però, ragazzi, venivo comunque da una dieta che doveva essere un surplus ma comunque provocava un deficit calorico per me e quindi non potevo di punto in bianco iniziare a mangiare quasi il doppio di quello che mangiavo e quindi ho abbandonato lì. Dopodiché mi sono affidata a un altro trainer. Cioè, ragazzi, questo per dirvi che davvero il mondo della palestra è difficile. È pieno di gente brava ma è pieno di gente anche incompetente che rovina le persone. Tanto è vero che mi sono affidata a questi ragazzi che conoscevo che, diciamo, mi hanno aiutata perché comunque anche fisicamente sono migliorata ma ero diventata schiava di MyFitnessPool. Se si inizia a considerare il conteggio dei macros come una questione di vita e di morte? Ecco, la tua vita non è più molto equilibrata. Diventa stressante l'allenamento, diventa stressante che cosa mangiare, contare, ogni volta inserire. Non dico che sia sbagliato, però non era l'approccio che andava bene per me, assolutamente. Cioè, io vivevo con l'ansia che dovevo andare a mangiare fuori e non sapevo come contarlo e come dovevo inserirlo. E allora stavo un pochettino più bassa, cercavo di stimare a mente, ma, cioè, era diventato ormai un meccanismo che soltanto da andare fuori a mangiare o mangiare qualcosa che non era tipo riso, pasta, pollo o comunque cose le facce da contare diventava uno stress. Quattro allenamenti a settimana stra-pesanti per me, davvero stra-pesanti. Tanto è vero che mi avevano creato pure tutta una rigidità all'upper body. Non so come spiegarvelo, però avevo i muscoli così affaticati, così stanchi, che mi ha creato questo problema. Quindi anche lì ho detto, basta. Incontro in palestra poi un altro ragazzo che mi propone di seguirmi, fa, guarda che è un bel fisico, hai delle potenzialità, dai, ti faccio proviamo. E io li faccio, ma va benissimo, anche perché, ragazzi, avevo davvero gettato la spugna, perché, cioè, va bene tutto, però, su buono non avrò mai il fisico che mi piace, oppure mi sono creata un sacco di complesse, adesso come ne esco. Diciamo che non ho mai avuto problemi alimentari, però comunque a livello mentale era diventato tutto uno stress che si ripercuoteva poi a livello fisico. Quindi, vabbè, vado da questo coach che mi fa una dieta che per me risultava perfetta. Colazione, e avevo un sacco di opzioni tra cui scegliere, no? E quindi questo mi ha aiutata anche a dire, ok, se mangio la pasta e mangio il riso, raga, sinceramente, da sta cosa. Grazie a lui ho raggiunto dei risultati fisici davvero allucinanti. Ero diventata, ragazzi, super grossa, super, super grossa. E, diciamo che mi piacevo, ma anche lì, io sono una persona che si fa un pochettino influenzare a volte, anche se posso sembrare molto forte, cose varie, però penso a quello che mi dicono le persone. E tanti miei amici mi dicevano, ma no, Malisa, sei troppo grossa, ma non stai bene così. Io sinceramente mi piacevo, però poi ho iniziato un pochettino a pensare a quello che dicevano, anche perché poi con l'estate sono dimagrita, perché non mi allenavo, alla fine mangiavo un po' quello che c'era, ero molto tranquilla, e sinceramente mi piacevo di più e anche le altre persone mi dicevano, no, Malisa, guarda che secondo me stai molto meglio così. Anche perché comunque avere un fisico del genere mi richiedeva tantissimo impegno, davvero tanto, e quindi ho iniziato a valutare se ne valesse la pena. Quindi, ok, ho un fisico, bello, che mi piace, però a cosa sto rinunciando? E lì mi sono resa conto di stare rinunciando a tante cose. Anche perché comunque, cioè a tante cose, cose che per me sono sempre state importanti, come i miei amici, la compagnia, andare a ballare in discoteca, bere, farsi una serata spensierata. Anche perché comunque, questa è una cosa che è venuta fuori ultimamente, i miei amici non me l'hanno mai detto. Però, boh, probabilmente mi hanno visto cambiata in quest'ultimo periodo, allora esce fuori il discorso, ma Lisa, ti ricordi quando? Uscivamo a cena e prendevi l'insalata, oppure andavamo a mangiare la pizza e tu prendevi il pesce o il pollo, oppure quando andavamo a fare aperitivo, dicevi, no, non la posso mangiare, cose varie. I ragazzi, quando me l'hanno detto poco fa, era come se stessero parlando di un'altra persona. Io ero lì, no ragazzi, ma va bene tutto, ma non ero così esagerata. Invece poi, ripensandoci e rielaborando, lo ero, anche perché sono andata a rivedere delle storie di Instagram, ed era così. Poi lo sapete che, io sono davvero una ragazza da discoteca, adoro ballare, adoro far festa, e tutto questo lato di me alla fine era stato un pochettino lasciato da parte per dar spazio a questo mondo della palestra, del fitness, ad avere un bel fisico. Quindi, alla fine, me ne sono resa conto. Sono qua per dirvi che sono super tranquilla, sto facendo le mie vacanze, l'Erasmus mi ha aiutato tantissimo, anche perché io ero andata proprio là con la mentalità, anche ragazzi, se non c'è la palestra o comunque, se non trovo quello che mi piace o se non ho tempo, anche perché avevo tante lezioni, volevo proprio concentrarmi sul divertimento, stare con le persone, conoscerle, ero pronta a qualsiasi cosa. Poi vabbè, alla fine la palestra l'ho trovata, ma avevo diminuito gli allenamenti, se ero stanca non andavo, mangiare i ragazzi eravano sempre fuori, bere, eravamo sempre in discoteca e sinceramente non avevo visto tutti questi cambiamenti. Risultavo addirittura dimagrita, perché io sono una persona, ragazzi, che se toglie lo stress si asciuga di brutto. Anche il fatto di non andare più in palestra non l'ho vissuto male, so che molte persone hanno comprato pesi e tutto il resto. Boh ragazzi, io sinceramente ci avevo pensato, poi alla fine ho fatto due conti e non mi conveniva, anche perché ragazzi i prezzi erano alle stelle e mi sono arrangiata. mi sono sempre allenata, a volte vivendolo un po' comunque come un dovere, però ragazzi in quarantena facevo così o davvero comunque tutto il giorno a studiare o far cose comunque di computer e cose varie che non mi andava, quindi era anche una valvola di sfogo. E adesso comunque tornata in palestra, adesso da settembre voglio cambiare di nuovo la mia routine, come sapete voglio iscrivermi a CrossFit, poi forse voglio ricominciare a fare pole dance, comunque voglio fare qualcosa che mi diverte, capito? Perché comunque sto trovando la sala pesi molto monotona anche se mi fa comunque avere il fisico che voglio, però mi rendo conto che alcune volte preferirei fare qualcos'altro, nonostante comunque sia la mia passione e mi piaccia, però diciamo che sono una persona che si stufa anche facilmente delle cose. Oltretutto una cosa molto importante è stato l'aiuto di Giallo, che vabbè, è il mio ragazzo ma io credo che ormai lo sappiate tutti, che anche lui comunque quando ci siamo conosciuti si è iscritto in palestra, anche lui era uno che mangiava insalata e pollo non se l'ha capito molto bene per quale motivo e insieme abbiamo proprio incominciato un processo di mangiare di più, mangiare bene, poi alla fine ci eravamo un po' fissati tutti e due e poi adesso proprio super tranquilli, quindi l'aiuto anche di una persona esterna è molto importante. Io ragazzi posso concludere il video dicendo che in questo momento mi trovo super serena con me stessa, super serena con il cibo, con l'allenamento, con le vacanze, non mi faccio mancare nulla, riesco a conciliare tutto e soprattutto riesco ad ascoltarmi. Quindi ragazzi davvero quello che volevo fare era raccontare un pochettino la mia storia perché dietro ha un bel fisico o comunque un fisico di cui sono soddisfatta c'è sempre stato dentro molto stress mentale riguardante dieta e tutte queste cose che mi costava proprio troppo mantenerlo e stavo rinunciando a tantissimo. Adesso mi sono ritrovata a davvero una vita più tranquilla in cui non mi faccio mancare nulla, l'allenamento è sempre presente perché ragazzi io se non mi alleno davvero cioè non sto male però io sono una persona molto carica devo sfogare in qualche modo quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se avete qualsiasi altra domanda scrivetemi l'ho fatta principalmente perché ho fatto delle storie in cui accennavo qualcosa su Instagram e ho visto che mi avete chiesto in tantissimi di parlarne di più di spiegare come stanno le cose e di come ho fatto a raggiungere questa tranquillità diciamo che ho visto tante cose che su di me non funzionavano e provando provando facendo una settimana così vedendo togliendo questo vedendo lasciandomi andare e ho capito più o meno quella strada che devo seguire e che va meglio per me io ragazzi con questo video non vi sto imponendo niente vi sto soltanto raccontando la mia storia che credo possa essere di aiuto a molte persone perché comunque molti di noi non hanno obiettivi agonistici ma solo intanto di stare bene tutte queste esperienze comunque mi hanno aiutata a raggiungere una consapevolezza e quindi chiudiamo qua questo video che ragazzi è durato già tantissimo però ci tenevo davvero ad essere un pochettino più trasparente e farvi capire alcune cose e niente ragazzi tutto ci è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao